Voi mi avete chiesto questa intervista su Pino Pinelli. Pino Pinelli è stato per quelli della mia generazione che si occupavano di politica, di movimento, anarchici e anche non anarchici, una ferita profonda, una ferita che, come ho già detto in altre occasioni, ricompare ogni volta che lo Stato cerca di cambiare la storia, di assolvere i carnefici e assolvendo anche Pinelli, però cercando allo stesso tempo di equiparare, come è stato il famoso caso di Napolitano quando evitò le due vedove al suo cospetto, di equiparare le vittime con i carnefici, una cosa veramente intollerabile per me, gli anarchici non avrebbero mai dimenticare. Fatta questa premessa cerco di andare ai miei ricordi dell'epoca. Prima di tutto io Pinelli non l'ho mai conosciuto perché ho 65 anni adesso, sono del 54, quindi nel 69 avevo esattamente 15 anni e mi stavo già avvicinando al movimento. Io ho iniziato, ho conosciuto l'anarchismo a 13 anni perché casualmente trovai nella biblioteca paterna il famoso opuscolo al caffè di Malatesta e lo lessi e trovai la via, la via di Damasco. Poi, un po' più grandicello, verso i quattro anni, cominciai ad andare alla sede dei vecchi anarchici torinesi, dove c'era Torino appunto di Arsenale, dove si trovavano la domenica mattina per vendere la stampa e trovarsi qua di loro, ormai non facevano più attività politica, era più un circolo d'incontro, magari qualche volta facevano qualche conferenza, si trovavano qualche oratore. e riconobbi anche dei compagni che avevano fatto la storia dell'archismo torinese, prima fra tutti Lario Margarita e anche Michele Guasco che è stato un anarchico torinese importante che si fece 8 anni, uno dei pochi anarchici, forse l'unico torinese condannato dal tribunale speciale. E fu in queste occasioni, proprio lì al Circo del Vecchio, che conobbi invece un paio di compagni più giovani, che anche loro erano lì di passaggio, che mi indirizzarono invece al Circo degli Anarchici Giovanili, che invece era uno scantinato che si trovava in via Guidoreni, all'estrema periferia di Torino, in cui appunto si trovavano la generazione più giovane, quella appunto che sia quella sessantottina che si era avvicinata in quel momento e sia quelli un po' più di una decina di anni più vecchi e mi riferisco particolarmente Roberto Ambrosoli, il creatore di Anarchic, e Gerardo Lattarulo, che è stato anche un compagno importante e che adesso attualmente da molti anni vive in Israele. Ed è fu proprio in questo periodo che accadde la strage di Stato e alcuni giorni dopo fu precipitato dalla finestra Pino. Io chiaramente, come ho detto, non l'avevo conosciuto, mentre invece i compagni che ho citato e anche altri, che adesso qualcuno è morto e qualcuno si è allontanato dal movimento, l'avevano conosciuto molto bene e ne parlavano con rabbia per quello che era successo, ma con molto affetto e con molta considerazione per la persona che era, per quello che metteva nella sua attività anarchica. Io all'epoca appunto ero un saltuario, quindi ragazzino, quindicenne, e quindi non fui colpito dalla repressione, mentre invece loro furono portati in questura, interrogati, alcuni anche tipo Gerardo mi diceva, la Tarulo, quello di cui parlavo prima, mi diceva che era stato incatenato nel termosifone nei corridoi della questura, cioè in piccola parte, anche se non come a Milano, anche a Torino, subito dopo la bomba del 12 dicembre ci fu un'andata repressiva che non colpì me personalmente proprio perché per la giovane età. Il primo fermo di questura però lo ebbi in occasione di una manifestazione, perché poi subito dopo iniziamo subito a fare una campagna di controinformazione, per primi, forse prima ancora forse di lotta continua che poi ne fece un cavallo di battaglia, ma noi pur essendo sparuti e minoritari, iniziamo a fare una campagna, ricordo che il primo libro che uscì fu quello che fece la fiaccola, che si chiamava Le Gombe dei Padroni, un opusco ad ormai oggi trovabile con la copertina nera, in cui c'erano già quello che poi sarebbe stato sviluppato più ampiamente nel libro La strage di Stato, che divenne poi un bestseller ristampato forse ancora nei tempi recenti. Cosa devo dire? Questa per me fu la prima palestra, cioè questo fece fare un salto, cioè un movimento che prima cercava di fare propaganda, cercava di inserirsi all'interno delle lotte che c'erano, ricordiamo che nel 69 c'era appunto il famoso autunno caldo, c'erano le lotte studentesche, quindi noi cercavamo con dei volantini, delle cose, di dare una visione anarchica a un movimento che invece per la maggior parte aveva preso la strada illusoria del marxismo, allora c'era il mito maoista che poi è crollato fragorosamente e questo ci costrisse però da, io parlo sempre da giovane inesperto come era allora e non da militante, però partecipavo all'attività con gli altri compagni, ci costrinse invece a intensificare un discorso antirepressivo, a concentrare principalmente la quasi totalità della nostra attività militante sul disegno repressivo perché poi oltre alla tragica morte di Pinelli, ci fu l'arresto di Valpreda e quindi arresto che durò diversi anni fino a quando poi fu liberato con la famosa legge Valpreda e che però noi continuamo per tutti quegli anni, ci costruivamo appunto a continuare a fare iniziative, campagne, facevamo quello che adesso oggi si chiama presidio, noi allora lo chiamavamo picchetto, facevamo dei grossi cartelli con scritto delle cose e poi andavamo in vari posti, principalmente in centro quindi alla stazione di Porta Nuova, in piazza Castello e mettevamo volantini sulle strade di Stato, sull'assinio di Pinelli, per la liberazione di Valpreda e appunto cercavamo di coinvolgere la gente che passava. In questo periodo ricordo appunto, personalmente ricordo il primo fermo in questura che fu proprio per una manifestazione di Pinelli che si concluse in piazza Castello e io salutai i compagni e mentre attraversavo la strada fui preso proprio di peso da quattro, che oggi si chiamano Digos, allora si chiamava Polizia Politica e fui infilato in macchina che velocemente mi portò in via Grattoni che è la sede della questura torinese, poi lì praticamente mi tennero qualche ora, mi rilasciarono, mi presero l'imparaggio di città, la prima schedatura e non avevo ancora 16 anni. Altro episodio fu un'altra volta che per esempio durante uno di questi picchetti andavamo a finire sotto, ma non volutamente, non valutavamo la cosa, sotto il monumento, un monumento militare, mi sembri cavalieri d'Italia e cose. E lì passò un vecchio rincoglionito che cominciò a inveire, che infangavamo l'onore di militare stupidate del genere. Noi non lo prendemmo neanche in considerazione, però questo probabilmente era legato al movimento sociale, che erano i fascisti e avevano le loro squadracce e arrivò una squadraccia di fascisti e lì mi ricordo che eravamo pochissime persone e molti se la filavano anche perché questi erano palestrati e armati e io con l'incoscienza della gioventù mi sedetti invece sul monumento con un cartello sfidandoli e loro, visto che era gente già sopra i 30 anni, visto che ero un ragazzino, mi diedero il classico calcio in culo senza menarmi e mi cacciarono via. Però effettivamente all'epoca a Torino, proprio perché erano anche foraggiati dalla Fiat, questo è stato poi dimostrato quando ci furono i processi per le schedature Piat e cose, c'erano diverse squadre fasciste molto che attaccavano, più che gli anarchici attaccavano i picchetti operai e avevano fatto anche abbastanza danni, quindi non era da sottovalutare quel problema. Infatti mi ricordo un'altra volta che dovevamo fare proprio una cosa del genere a Porta Nuova, un picchetto e venimo a sapere che proprio in contemporanea ci sarebbe stato in una piazza adiacente, un comizio di ordine nuovo. Ci siamo ritrovati in sede ed eravamo un po' dubbiosi se continuare, se portare avanti e mi ricordo che ci fu allora Luigi Assandri, un compagno che è morto nel 2008 ed era un compagno che era un po' più vecchio di Pinedi perché lui aveva fatto già la resistenza, però si era avvicinato all'anarchismo nel dopoguerra ed è stato un grandissimo propagandista delle idee arache che ha fatto tanti opuscoli, riprodotto, passava le sue nottate al ciclostile e poi il giorno dopo. E aveva avuto, a differenza degli altri compagni anziani che non è che ci trattassero male, però chiaramente lo scarto generazionale ci impediva di avere uno scambio diretto, un trapasso, un testimone, mentre invece lui era riuscito invece a, anzi teorizzava anche che i vecchi ormai non facevano più niente a stare con i giovani ed era riuscito invece a creare questo legame. E appunto in quell'occasione, in quella riunione lui ci guardò e ci disse se oggi non andiamo dove abbiamo preventivato andiamo a casa, chiudiamoci dentro e non usciamo più di casa perché quando diciamo una cosa la dobbiamo fare. E allora ci convinse ad andare a fare questa cosa che poi fortunatamente per noi si ridusse senza incidenti perché i rapporti di forza con i fascisti non erano a nostro favore. Boh, penso che non... Senz'altro fino a quando ci fu la liberazione di Valpreta, fino a quando poi lui fu assolto, per poi riprendere quando 18 anni dopo venne di nuovo incriminato, perché fu un processo lunghissimo, penso che è stata la mia attività meritante e di formazione, quella della strage di stato. E penso anche che, come ho detto prima, che quella di Pinelli sia sempre una ferita aperta e che non bisogna mai dimenticare, mai abbassare la guaria. Tempo fa fui invitato da Antonio Lombardo, un compagno di Cuneo, a fare un intervento per il decennale della morte di Vicenzina Vanzetti, che era la sorella di Bartolomeo. Vicenzina è stata quella che ha mantenuto in piedi il comitato per la riabilitazione di Sacro Vanzetti per tutta la sua vita, ed è quella che praticamente ha tenuto in piedi questa battaglia legale che a noi personalmente interessava poco. Infatti nel 77 contestammo anche la riabilitazione sia a Torino, con le autorità principalmente comuniste, all'epoca il comune era in mano a PC e sia a Villa Falletto. E' invitato a partecipare a questo convegno, non potrei purtroppo andare perché era in coincidenza con i miei impegni di lavoro, però mandai una relazione scritta che fu pubblicata dal bollettino dell'istituto della licenza di Cuneo, nel presente della storia, in cui te ne titolai Le tante strade della memoria e in cui facevo un parallelo tra il caso di Sacro Vanzetti e quello di Pino Pinelli. E dicevo appunto che entrambi erano stati, sia loro 50 anni prima e sia Pinelli dopo, erano stati accusati di cose che non avevano fatto. In entrambi i casi c'era stato Pino in tempi recenti e Andrea Salcedo aveva un defenestrato dagli uffici allora in America dell'FBI e in Italia della Costura di Milano. E in entrambi i casi lo Stato aveva cercato di assolvere se stesso facendolo passare questo omicidio, questi omicidi come suicidi. E in entrambi i casi appunto c'erano state due memorie diverse, una memoria militante degli anarchici a cui non interessava in realtà dimostrare l'innocenza di uno dell'altro, interessava mantenere viva la memoria militante di questi compagni che erano morti cercando di difendere un'idea, di portare avanti un'ideale. Mentre invece alle famiglie, questo interessava ben poco le famiglie e qui facevo anche il paragone presente con la famiglia Pinelli, la famiglia pensa di ottenere giustizia e ma chi è che può dare giustizia per un crimine di Stato? Lo stesso Stato che ha perpetrato il crimine, quindi è un cane che si morde la coda. Infatti sacchevanzetti erano già stati assolti da migliaia, milioni di persone che erano scese in piazza per la loro liberazione. Pino Pinelli lo stesso, tutti quelli che sono scesi in piazza in questi anni hanno sempre rivendicato la sua figura e condannato l'assassina. Quindi non aveva senso chiedere questo tipo di giustizia. E lo stesso appunto anche Calabresi. È comprensibile che i familiari, i figli, ne chiedano una sorta di riabilitazione, eccetera, perché riguarda la loro storia familiare. Io non mi interessa entrare negli affetti familiari, però non sono la stessa cosa. Calabresi è stato ucciso per delle cose che aveva fatto. Pinelli è stato ucciso solo perché era un anarchico. Sono due cose diverse. Le colpe di Calabresi sono chiare e sono agli atti storici. Il fatto del fermo illegale, il fatto di non avere avvisato la famiglia quando era morto, il fatto delle testimonianze precedenti dei compagni arrestati il 25 aprile del 69 che dicevano che Calabresi li portava alla finestra, infatti lo chiamavano il commissario finestra, diceva se non parli ti butto giù. Finte esecuzioni che aveva fatto con dei fermi che gli facevano correre, diceva adesso ti spariamo perché dovevano identificare un ipotetico deposito di esplosivi. Insomma c'è tutto un iter di Calabresi commissario che non depone a suo favore. Poi adesso ultimamente c'è stato un interessante libro di Fuga e Maltini che senza assolvere Calabresi, perché come ho detto prima nessuno potrà mai assolverlo, mette delle inquietanti ipotesi sulla regia che stava dietro alla morte di Pinelli, su una presenza inquietante dei servizi segreti all'interno della questione di Milano che avrebbero in una certa misura esautorato anche i funzionari stessi che potrebbero anche essere stati usati come parafulmine per nascondere l'attività reale dei servizi segreti di D'Amato e queste cose, che senz'altro è un'ipotesi che potrebbe anche reggere ma tutto non assolve lo Stato perché erano figli della stessa famiglia. In secondo luogo Calabresi e gli altri, se anche fosse, si sono prestati a reggere questo sporco gioco senza denunciarlo, anzi accettando di fare la figura del parafulmine. Quindi penso che su Pino Pinelli non ci potrà mai essere nessun tipo di pacificazione ripensamento. Io rispetto anche i familiari di Calabresi perché non sono responsabili delle azioni che lui aveva fatto, ma sulla figura di Calabresi non ho nessun tipo di ripensamento.